Dottoressa Giuliana Flery che fa parte del gruppo direttivo dell'Accademia delle Muse e quindi del premio, ecco una battuta sua sulla serata. Dunque, come sempre Giuliana Plastino Fiumicelli è stata bravissima, del resto insomma il lavoro organizzativo è stato abbastanza pesante però devo dire che rispetto all'anno scorso abbiamo avuto qualche personaggio diciamo diverso, sempre diversi però quest'anno diciamo singolare, mi riferisco a Nella Muti, mi riferisco al musicista inglese e ho trovato delle caratteristiche anche diciamo particolari per quanto concerne il professore inglese sulla musica sacra. Ecco, io questo dico che mi sembra una cosa abbastanza buona, ecco un bel premio con buoni risultati, almeno si spera. La dottoressa Giuliana Plastino Fiumicelli che è il segretario generale del premio internazionale alle Muse è giunto al 45esimo anno quindi che emozione prova dopo tutti questi anni e quest'anno fra l'altro abbiamo anche la promozione di nuovi accademici. Sì, siamo tornati diversi anni fa e abbiamo ripristinato la nomina di alcuni, anzi precisamente di 5 nuovi accademici. Sono tutti personaggi di spicco e che fanno tanto anche per loro, per la cultura. Sì, il premio è giunto come avrà saputo signora alla 45esima edizione, una dopo l'altra ogni anno senza mai lasciarne una. Questo premio che è importante, è importantissimo. Anche geografico, diciamo che è un premio anche geografico perché spazia dal nord al sud. Certo, certo, come ho visto anche stasera, qui c'era questo pubblico gremitissimo, questo salone, ma si sentiva parlare tutti i dialetti italiani perché c'erano personaggi di Genova, di Milano, di Venezia, di Brescia, di Rovigo, di Adria, poi giù Livorno, Firenze, anche Firenze certamente, e poi la Toscana, Siena, poi Roma, Roma ha una bella percentuale di romani, e poi giù, 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 fino alla Calabria e poi fino alla bellissima nostra Sicilia di cui anche quest'anno c'è stato due premiati, uno la Musa Clio, uno storico, il professor Giacomo Pace Gravina e anche accademico il dottore Roberto Cagnina, già presidente della Banca d'Italia. I nomi dei premiati li ha visti, sono stati importantissimi. Ecco, ci dica qualcosa del dottore Masi, il manager della RAI, che non è potuto venire, ma cosa le ha mandato? L'ultimo, ha mandato a mano, proprio una mezz'ora prima che iniziasse la cerimonia, una lunga lettera bellissima che io ho letto a tutto il pubblico, dove lui spiegava i motivi veramente seri per cui non poteva essere qui stasera fra noi ma si onora di aver ricevuto anche lui questo premio così importante. E del resto, come ha detto il nostro sindaco e il nostro presidente del Consiglio e tante, tante altre autorità generali, c'era perfino la rappresentanza, come ha visto, della Croce Rossa italiana, le nostre croce rossine con i loro vestiti bianchi e la Croce Rossa sulla montura, che hanno salutato e osannato questi personaggi venuti dal mondo. Come ha visto, l'Apollo veniva da Tokyo, un personaggio grandissimo, quello che ha portato per primo l'alta moda italiana in Giappone, ma inoltre anche il più grande sponsor italiano per l'Italia straniero, come l'ha detto più volte il sindaco, che gli ha dato anche le chiavi della città di Firenze. E poi il direttore d'orchestra che veniva da Londra, la prima ballerina dell'Opera di Parigi, Eleonora Abbagnato. Anche lei siciliana. Siciliana, già, anche lei è siciliana. Palermo, Palermo. E dalle domande che gli ho fatto, dalle risposte che ci ha dato, ormai parigina. Ho sentito sì però che l'Italia è sempre molto affezionata, sia l'Italia che in particolare la sua patria, che è la Sicilia appunto. E poi la grande attrice Ornella Muti, e poi il grande regista e attore Gabriele Lavia, e poi la presidente di Confindustria Toscana, una giovane ricercatrice chimica che fa degli studi profondi sugli acidi solforici. E poi il poeta, il poeta che veniva da Siena, che è insomma un nome di alto prestigio, di grande rilievo, e poi anche uno sembrava un giugno. Tutti bravi, tutti bravi. In realtà non era poi tanto un romanziere di libri noir, quelli che oggi vanno tanto di moda. Ecco. E allora per il prossimo anno cosa possiamo anticipare? Beh, per il prossimo anno ne abbiamo già individuati 4 o 5. E abbiamo però tutto un anno per poterci pensare. Grazie signora di essere venuta. Ci rivedremo. Prego. Grazie signora di essere venuta. Grazie signora di essere venuta.